l'elefanta rod è una cooperativa di giovani innanzitutto e si occupa di tanti aspetti uno di quali è pubblicizzare l'immagine e pubblicizzare l'immagine cosa si intende non solo pubblicità ma anche marketing e poi ci ampliamo anche in altri campi come film cinema spettacoli interviste insomma tocchiamo tanti argomenti all'elefanta rod ho fatto tantissime cose tra le quali montare video quindi post produzione e non ho fatto solo questo perché ha aiutato molto anche nel montaggio del set in quali occasioni scena 6 a 13 seconda sono riuscito anche ad ampliare la mia conoscenza riguardo l'audio e ho fatto un po il fonico in alcune occasioni un giorno mi piacerebbe lavorare alla elefant o lavorare comunque nel campo della elefant perché mi sono appassionato nell'arco di questi sei mesi e davvero ci tengo a continuare su questa strada e accadono che avrà una grande rilevanza secondo me perché ha potuto aiutare noi giovani a conoscere nuove realtà lavorative che prima non avevamo considerato e così da scegliere in futuro in quale campo ci vorremmo poi specializzare Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!